Incredibile. Il presidente dell'Inps, il presidente di un ente che da mesi non paga la cassa integrazione a milioni di lavoratrici e lavoratori, che cosa fa? Si raddoppia lo stipendio. Una presa in giro per tutti gli imprenditori che hanno anticipato di tasca loro la cassa integrazione ai dipendenti, una presa in giro a milioni di famiglie che faticano a tirare avanti per colpa dell'incapacità di qualcuno. La sua risposta? Raddoppiarsi lo stipendio. Roba da matti in qualunque paese al mondo la soluzione sarebbe solo una. Dimissioni, dimissioni, dimissioni. Personalmente, come Lega e come Italiano, sono indignato dall'irresponsabilità e dall'arroganza di certi personaggi che ci stanno governando.